Leonardo Silva Revisore Voglio raccontarvi una storia. A dir la verità, è una storia un po' speciale, perché, pensate, è lunga centinaia di migliaia di anni e a questo punto vedo già qualcuno tra il pubblico, soprattutto qui vicino, che vi vedo meglio preoccupato all'idea delle centinaia di migliaia di anni. Ma non vi preoccupate, perché io qui ho il timer e mi dice che ho 15 minuti massimo, quindi cercherò di essere sintetica tranquilli. Oltre a essere così lunga, però, è anche nata, ha avuto origine su quello che una persona molto più saggia di me, Carl Sagan, noto astrofisico statunitense, una volta definì con una frase che, a mio parere, è davvero molto poetica. definì come un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. Ma poi non è solo questa storia, perché è anche la storia di una bambina, di una bambina che guarda con emozione e con trepidazione quegli infiniti puntini luminosi accendersi tutte le sere sopra la sua testa. Ed è la storia di tutti coloro che, prima o dopo di lei, hanno guardato, guarderanno almeno una volta nella loro vita l'infinita bellezza di quel cielo che ci avvolge e ci travolge. A questo punto, però, ho due notizie, una buona e l'altra cattiva. Quella cattiva è che vi ho promesso di raccontarvi una storia, ma la verità è che io non conosco il finale di questa storia. E quindi, di nuovo, qualcuno di voi dirà beh, dai, meno male, così andiamo brevi. Ma c'è anche una buona notizia. E la buona notizia è che, anche se non conosco il finale della storia, per fortuna posso sognarlo. E quindi chiederei a tutti voi, sia voi che siete qui presenti in teatro oggi, sia voi che invece ci guarderete da casa in streaming, non lo so, di chiudere per un momento gli occhi e di sognare insieme a me. Non so se la conoscete, ma esiste una famosa leggenda metropolitana nata negli anni trenta del secolo scorso, che dice secondo le leggi della fisica, il calabrone non può volare. Ma questo lui non lo sa, e quindi vola lo stesso. Allo stesso modo, quando quella bambina osserva le stelle e le persone le chiedono perché le piacciono così tanto, lei non lo sa, ma continua a guardarle lo stesso. Perché è difficile dare una spiegazione a una passione che nasce da dentro e il cui fuoco brucia ardentemente giorno dopo giorno. È difficile trovare le parole che possano anche solo lontanamente esprimere il mondo che quella bambina sente dentro quando appunto guarda le stelle. che poi però, se ci pensate, la passione di quella bambina, la sua curiosità, la voglia di scoprire cosa c'è oltre quell'infinita distesa azzurra che di giorno ci colora la vita e che di notte ci fa fare i sogni più belli, affondano le loro radici in tempi lontanissimi. e sono le stesse che da sempre muovono il genere umano verso l'oltre. In millenni di storie, infatti, l'uomo occupò prima la terra e questo forse in un qualche modo fu semplice. Poi, vincendo le paure, conquistò anche i mari, spingendosi per la prima volta oltre le mitiche colonne d'Ercole che rappresentavano un po' quell'invalicabile confine del mondo. Mondo che poi, in realtà, lì non finiva, ma continuava. E continuava, pensate un po', per lanciare nuove sfide. Sfide che, appunto, furono vinte da grandi esploratori. Colombo, Vespucci, Magellano. In generale, potremmo dire, tutte quelle persone che videro con i loro occhi i cieli nuovi di terre nuove. A questo punto, dopo aver parlato di terra, dopo aver parlato di mare, è lecito chiedersi non c'è nient'altro da conquistare? Beh, rimaneva l'aria, il sogno del volo, il più grande, il più pauroso e il più sfidante. Immaginate di essere come gli uccelli, di poter toccare con mano le nuvole, di sfidare gli dei che avevano casa proprio lì, in quel cielo. Ecco qual era l'ardimento più grande, per l'uomo di quel tempo? Vi chiederete, impossibile? Beh, direi che per nostra fortuna nulla o quasi è impossibile alla determinazione della volontà umana che inventò le macchine volanti e occupò come gli uccelli l'aria. Ma l'aria non era ancora tutto, perché fuori c'era l'infinito altrove dello spazio, la vera frontiera, la pagina bianca di una storia che sarà potenzialmente infinita. Oggi, dopo circa 60 anni, forse anche qualcosina di più, direi dal periodo della corsa allo spazio durante la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, oggi viviamo finalmente una nuova luce per l'esplorazione dello spazio. Siamo l'alba di una nuova luce per l'esplorazione spaziale. Una luce che ci consentirà di andare più lontano di quanto siamo mai stati o di quanto abbiamo mai creduto possibile. Una luce che per noi è importante perché porta con sé tutti i successi, tutti i fallimenti, tutti gli sforzi e tutte le vittorie che in millenni di storia abbiamo collezionato come genere umano. Che alla fine, se ci pensate, non è altro che una specie qualunque, nata e sviluppatasi, per citare nuovamente Carl Sagan, che come avete capito mi piace molto, nata e sviluppatasi su un piccolo puntino blu che da miliardi di anni balla un armonioso waltzer attorno al sole. Una specie qualunque, questo è vero, ma ha da sempre mosso i propri passi come spinta da una naturale curiosità verso tutto ciò che è ignoto. Una curiosità non da poco perché ci ha permesso di inventare la scrittura, di scoprire la penicillina e, in ultimo, di andare nello spazio. Una curiosità che, alla fine, rende la nostra specie una specie unica e che io spero, mi auguro per davvero, possa non abbandonarci mai. e devo dire che è proprio sulle tracce di questa curiosità che io sono più emozionata che mai all'idea di vivere agli albori di una nuova era d'oro per l'esplorazione dello spazio. Penso che, in generale, sia proprio questo concetto di alba, ad emozionarmi. Ma, in fondo, a chi di noi non emoziona un'alba? Pensate, quel momento in cui tutto inizia e non sappiamo ancora che cosa sarà. Magari quel qualcosa deve ancora nascere, ma ha in potenza la possibilità di essere tutto. Ecco, io questo lo trovo veramente molto eccezionale. Un po' come l'alba di ogni nuovo giorno, alla fine, no? Quel momento, appunto, in cui tutto inizia, in cui tutto può ancora cambiare. Quell'attimo sospeso in cui solo noi, effettivamente, siamo i padroni di noi stessi e del nostro tempo, in cui solo noi possiamo scegliere di prendere in mano le redini della nostra vita. E quindi è proprio sulle tracce di quest'alba, che posso vedere metaforicamente come momento in cui io decido di prendere in mano le redini della mia vita, che a 22 anni ho un sogno, studio fisica all'Università di Torino per cercare di inseguire questo sogno. E il mio sogno qual è? Beh, il mio sogno è quello di poter partecipare, anche io in un qualche modo, a quello che sarà il progresso scientifico e tecnologico del futuro. Che poi non mi piace mai parlare solo di progetto scientifico e tecnologico, perché sembra sempre qualcosa di un po' fine a se stesso. Ma in realtà io sono fortemente convinta che scienza e tecnologie in realtà non siano altro che progresso umano, perché alla fine siamo noi, esseri umani, a fare quel progresso. E quindi ecco che la scienza e la tecnologia ci consentono di progredire in avanti come specie. Devo dire che poi io sono sempre stata una persona che non ha mai amato partecipare passivamente, diciamo, alle cose che le accadono attorno, sempre preferito in un qualche modo mettere le mani in pasta, come si suol dire. Ed è così che, appunto, tre anni fa ho partecipato insieme a un amico a un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Europea. E devo dire che ho partecipato a questo concorso ma in realtà senza nessuna aspettativa. Il bando era aperto da maggio e io quando l'ho scoperto era luglio, luglio 2018. Era metà luglio, mancavano due settimane alla scadenza. Io ho chiamato questo mio amico e gli ho detto senti, che ne dici, partecipiamo? Tanto non abbiamo assolutamente nulla da perdere. Ci impegniamo, ci divertiamo, impariamo cose nuove, scopriamo cose nuove e impariamo, che alla fine è la cosa più importante, soprattutto penso quando si è giovani, ma poi in generale nella vita bisogna non smettere mai di imparare. Ecco, questo mio amico mi ha detto, ma sì, dai, proviamo. E quindi per due settimane abbiamo lavorato a questo progetto consistente nel trovare un utilizzo alternativo al Dream Chaser. Il Dream Chaser è un veicolo spaziale che voi potete vedere, immaginare, come un piccolo space shuttle, di dimensioni ovviamente molto ridotte, che è stato sviluppato dalla Sierra Nevada Corporation, questa compagniero spaziale privata americana. Il compito di questo Dream Chaser sarà quello di portare astronauti e cargo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel prossimo futuro. Noi abbiamo trovato un utilizzo alternativo e abbiamo pensato di utilizzarlo come sorta di ponte tra le missioni qui sulla Terra e quelle più lontane nello spazio, quindi per esempio sulla Luna o sugli asteroidi, perché no? Ecco, pensate che il nostro progetto alla fine è risultato quello vincitore. In quel momento, quando il nostro progetto è risultato appunto quello vincitore, la mia felicità ha in un qualche modo toccato le stelle, ma non tanto per la vittoria in sé, perché quella sì è stata bella, è stata una grande soddisfazione, assolutamente non posso negarlo, ma quel momento è stato per me importante perché io ho capito che allora non ci sono limiti ai sogni e che tutto in un qualche modo si può concretizzare. Quello che ovviamente è necessario avere è determinazione, passione, impegno, costanza, a volte fare dei sacrifici e perché no anche versare qualche lacrima, quella purtroppo a volte capita. Grazie. Io oggi, oltre a studiare fisica all'università, mi occupo anche di divulgazione scientifica per ragazzi. Parlo loro di scienza, in particolare di spazio, perché, come avrete capito probabilmente, è la mia passione. e parlo loro con l'idea di poterli appassionare, incuriosire o anche solo semplicemente ispirare. Devo dire che a volte è davvero molto difficile portare avanti questi due impegni parallelamente, perché comunque richiedono molto del mio tempo e a volte sembra sempre che di tempo non ce ne sia mai abbastanza. Quindi tante volte ho pensato, non ce la faccio, forse sarebbe meglio mollare tutto, no? Ma poi ogni volta che un bambino mi si è avvicinato e mi ha detto da grande io voglio essere come te, ho capito che allora quello è il mio posto e che io non potrei farne a meno, perché alla fine questa è la vita che ho scelto. Chiaramente oggi non posso ancora sapere dove mi porterà la vita o di fronte a quali sfide mi metterà davanti. Non so cosa farò o dove sarò domani, tra una settimana o tra tre anni. Ma quello che so con estrema certezza è che ho fame di futuro e non ho alcuna voglia di accontentarmi. Voglio continuare a studiare e impegnarmi, perché questa è l'unica ricetta che ad oggi conosco per poter continuare a mirare alle stelle e chi lo sa, perché no, magari un giorno anche avvicinarmi a loro con una tuta ad astronauta addosso. Grazie. 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 Perché, appunto, ho 22 anni, ma una cosa penso di averla capita. Nella vita in generale bisogna sempre puntare all'impossibile per poter toccare, anche solo metaforicamente, le stelle con un dito. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.